La prima scuola pratica agricola femminile in Italia fu inaugurata a Milano nel 1902 e fu trasferita in campagna a Niguarda nel 1904. Gira e rigira mi trovai un giorno a Niguarda, un comunello allora di men che 4.000 abitanti. Ci si arrivava con un tram a vapore e gamba dei legni e si scendeva al ponte sul Seveso, nel cui letto alle rive si vedevano ancora rovesciate le ruote di granito degli antichi mulini, onde Niguarda andava superba nel Cinquecento. Per le strade menmose nei cortili qualche vecchio ancora portava nei capelli la raggera brianzola d'argento. Umili le case, ma qua e là vestige di grazie settecentesche e qualche palazzo dai nomi altisonanti, Trotti, Corio, Clerici. Casa Clerici appunto. Una bella inistracci, ecco la prima impressione, ma bella davvero. Grande la linea, superbe le scale adorne alle svolte di statue senza naso, spaziose le sale con affreschi, uno della piani, e specchi annebbiate alle pareti, il tutto circondato da un terreno vastissimo, parte a colture gelsi, parte a giardino, su cui si ergevano con sorriso nostalgico le antiche ninfe di pietra. Ne fui presa. Di tanta dovizia si potevano togliere in affitto cinque ambienti al primo piano e due pertiche di terreno coltivabile per cinquecentocinquanta lire annue complessivamente, e si capisce come quel giorno io tornassi a Milano lieta per la buona fortuna. Poco dopo il contratto fu stipulato.